E tu, guarda che c'è il percorso a capo, c'è la panchina, per ripresa l'inizio dalla panchina, poi dopo ci siete uno, c'è due secondi fisso su uno, poi ci siete un altro, dopodiché si vedono tutti e due a guardare fisso davanti, dopodiché si vede una fotocamera dietro e si vede che due guardano il mare, e poi io le faccio vedere, tu mi fai a me, ma chi è? Io ti chiedi che l'unera. Ma lo sai che sei bravo come regista? Ti ha accesso.